Una volta per imparare a fare qualcosa dovevi andare per forza a bottega, si diceva, cioè volevi fare il falegname, andavi da parte a un falegname, lo guardavi e rubavi il lavoro, si diceva così. Oggi grazie a internet, grazie a questi strumenti, a questi canali che, come quello che hai in mano tu che mi stai guardando adesso, possiamo imparare tantissime cose che ci possono migliorare enormemente la vita. Personalmente ho fatto un percorso nel settore immobiliare molto importante, qua sopra, qua sotto trovi tutti i link per approfondire, e ho deciso di condividere con te le informazioni, i contenuti che ho trovato in questo ambito e che possono aiutarti ad entrare in questo settore. E non ti darò solo delle informazioni, ma ti darò anche degli strumenti, anche i soldi, se mi porterai delle opportunità veramente valide, abbiamo degli investitori che possono finanziarti, quindi soldi, competenze, strumenti, il mercato c'è. Se cerchi i metodi anche tu per imparare qualcosa, un mestiere nuovo, ecco che partecipare al nostro seminario può fare la differenza. Vieni a conoscermi dal vivo.